Vai sulla pagina CRI.it e clicca su Sei una scuola. Si aprirà una pagina in cui potrai scaricare l'offerta formativa. Una volta stabiliti i percorsi di tuo interesse, clicca su Mappa dei comitati aderenti. Individuato il comitato più vicino alla tua scuola, clicca su Modulo di adesione e inserisci le informazioni relative all'istituto scolastico. Ti verrà chiesto di indicare un referente che il comitato CRI potrà contattare. Per ogni percorso scelto dovrai comunicare il periodo di riferimento e il numero di classi e alunni che intendi coinvolgere. Continua nella scelta dei percorsi fino ad arrivare all'alternanza scuola-lavoro. Anche in questo caso dovrai indicare un referente, il periodo e il numero delle classi coinvolte. Prosegui nella compilazione fino al termine del form con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il comitato CRI riceverà la tua richiesta e ti contatterà per organizzare l'attività. Grazie per la visione!